Mattia Manueli, della gara contro il Siena salviamo solo la grandissima prestazione un punto perso in zona Cesarini, mannaggia Sì, un punto perso, ma la prestazione, quello che voleva il mister l'abbiamo messo in campo i primi 45 minuti, abbiamo fatto una buona partita, preparata bene abbiamo tenuto bene il campo, una squadra sulla carta superiore poi gli episodi hanno condato la partita, l'espulsione di Nicola è stata un crocevia fondamentale del risultato e niente, si va avanti, si pensa domenica prossima con diversi problemi come l'espulsione di Nicola però ci ammetteremo tutto per prendere tre punti fondamentali per agganciare almeno il Villabiacio che è davanti a noi Allora, ricordiamolo per chi ci vede, giocate con il Sandonato, Tavernelle io inizio a dire che è l'ultima spiaggia, perché da qui alla fine del campionato sono tutte finali non vi potete permettere di lasciare punti da nessuna parte Sì, questo è quello che pensiamo anche noi abbiamo già fatto 12 partite, quindi è ora che si pensa che ogni partita è una finale perché più si va avanti e più si ristringe il cerchio quindi ogni partita è assolutamente una finale per noi, già iniziando la domenica con qualsiasi squadra, sia giocando con una squadra di vertici sia giocando con una squadra di bassa classifica il campionato è un campionato equilibrato, l'abbiamo già detto prima abbiamo visto che a Bastia si fa fatica ma si può fare il risultato col Siena quindi è un campionato bello e equilibrato, noi ce la metteremo tutta C'è da fare anche una considerazione, bisogna tenere d'occhio anche la distanza che c'è fra la terza ultima e la quart'ultima, perché se la forbice si allarga e i punti diventano più di 10, non occorre neanche arrivare ai terzi ultimi No, sì, infatti bisogna anche vedere la differenza che c'è tra la terza ultima e la quart'ultima in caso di 10 punti tra le due si va giù tutte e tre dirette quindi bisogna stare attento non ad arrivare al terzo ultimo ma ad arrivare a meno 10 punti la quart'ultima che è fondamentale, se no si va giù Però voi ci credete? Noi ci crediamo tantissimo perché lavoriamo bene, lavoriamo tutti i giorni il mister ci dà la carica giusta, si vede anche dalla prestazione di domenica che non c'è una scuola morta, che c'è una scuola viva, che lotta e purtroppo agirerà anche per noi bene